Pronta a trasformarsi in una città al libro, Pescara si prepara ad affrontare la commissione giudicatrice del Ministero che il prossimo 11 febbraio dovrà decretare il progetto vincitore tra gli otto comuni candidati a diventare capitale italiana del libro per il 2022. Il progetto del comune di Pescara, che si contende la vittoria con Barletta, Costa di Rovigo, Aliano, Ivrea, Nola, Pistoia e Pordenone, prevede una lunga serie di iniziative, tra cui caccia al libro tra le vie della città, potenziamento delle biblioteche e perfino la scrittura di un libro collettivo in dieci capitoli, ognuno per ciascuna circoscrizione comunale. I dettagli del progetto sono stati illustrati dal sindaco Carlo Masci, dall'assessore alla cultura Maria Rita Paoni-Saccone e da Gabriella Polio e Fabio Zuccarini, dirigenti del settore cultura del comune di Pescara. Abbiamo presentato un progetto, La città che legge, è un progetto molto bello, molto particolare, molto intrigante, devo dire, perché coinvolge un po' tutto quello che è la nostra città e coinvolge i giovani, coinvolge le strutture più importanti a livello culturale e quindi noi stiamo cercando di implementare quello che noi già abbiamo. Pescara è una città che legge, è una città sempre piena di richieste, di associazioni, di privati, di fondazioni che ci richiedono l'utilizzo delle strutture comunali. Ci hanno aiutato dei partner importanti a livello locale, la fondazione Genti d'Abruzzo, Pescara Abruzzo, il FLA e noi siamo fiduciosi, incrociamo le dita e speriamo di raggiungere questo prestigioso obiettivo che ci permetterà poi, nel caso in cui dovessimo vincere, di poter avere un contributo di 500 mila euro da poter utilizzare proprio per incrementare questa attività letteraria a livello locale al quale verrà aggiunto un ulteriore importo messo a disposizione dall'amministrazione comunale di 110 mila euro. Carlo Masci, sindaco di Pescara, questo progetto in che modo potrebbe cambiare il volto della città di Pescara? Intanto è un investimento sulla cultura ed è anche motivo di grande soddisfazione perché partecipare a un bando come Capitale del Libro 2022, essere selezionati tra tante città con otto città che si contenderanno il risultato finale sicuramente ci riempie di orgoglio anche perché il progetto è tutto fatto internamente al Comune. L'11 avremo questo confronto, ci presenteremo a questo confronto con i piedi per terra ma sapendo che possiamo volare alto come città, Pescara è una città che si muove sempre e viaggia sempre molto veloce.